ma sono forti questi ma non c'è una classifica specifica 24 vittorie 3 sconfitte sono inglesi? dobbiamo vedere che tipo qua c'è un tipo regoless diversa da Gameback voglio vedere una roba sulle regole tipo ah si regolamento dobbiamo vederci tipo ogni cosa dobbiamo stare attento intanto a non romperle le scatole sennò si scotta la partita i love my life dove andiamo tenter dove andiamo tenter dove andiamo per me possiamo andare a Groovey Groove ehm si tanto qui ce la sappiamo gestire di solito la vera patita ma quelli sono andati a magatino mettiti vero ma che cazzo si stanno dividendo si vabbè non ci credo ma questi sono forti davvero forse e vabbè però guarda dove sono scesi in posti scarduti guarda che abbiamo gente eh io cado dal benzinaio e mi sa prendermi il pompa due pompe se vuoi venire anche tu vabbè io sono qui dal negozio in caso poi vieni da me si 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 vanno subito uno sta prendendo roba a gazebo non vi neanche faccio via le kill da altri team se ci sono altri team qua si si c'erano un bel po' di persone vabbè giochiamo la cellulose si vabbè più o meno save pozzette 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 eeeh natito pieta Està diventattico sai che funziona il del Mars sento uno che sta spaccando muori Allora, ce n'era uno di quando andava in nostro negozio, uno nella casa caldo Sì, sì, una casa resta, lo sento che spacca ancora Una stud pura era Una roba Bravissima Però una ce l'ha tagliata, una kill Ma chi è un lanciacazzi? Che, che? Ma è tutto scudato, un sacco di kill Ok, a terra, ho ucciso, ho ucciso quello là A terra Bravo E' qui dentro l'altro Attento dal negozio Questo è l'altro Non c'è ancora niente E poi c'è lanciarazzi? Arrivano Arrivano Bravissimo Ti ho preso i lanciaraggi però sono senza colpi No, non c'è Vabbè siamo 5 Però ci siamo fatti fare un sacco di kill field Sì, lo so Un altro negozio di là Non volevamo rischiare Sì, sì Non volevamo rischiare Il bozzino C'erano comunque due contro otto Però Ma dall'altra parte quelli non sono morti Quelli è serrati Come no? Quello lì che è serrato lì è morto L'ho finito io Uno e l'altro Boh Ah sì, sì Sì, sì Sono due loot Sopra Ma non c'è morto ancora E dai 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 che quelle watch Dai che quelle watch Un po' false Almeno l'ha eliminato Sono a 5 Dobbiamo fare una scelta Una kill penso Poi non so dove leggere Sicuramente se basta stare in piedi In caso di pareggio Tipo di resta Che cazzo Si è fatto lasciando Quel bastardo Che culo Che schifo Che cosa ho trovato qui sopra Sì Infatti fuori dalla cazza L'ho trovato Il FAMAS E' forte Però viola Si sono i miei spugli di sopra Li porti tu Io ho i Medikits Ah Dammelo a me Medikits Che prese Ho mai fatto il caricato il FAMAS Sì 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 Che voglio Ho preso la chac Ma è scappato Voglio aver già finiti No no Ho visto che Gli ha saltato mezzo Il FAMAS Già li hanno tosi Ci sono le casse qui Non è stato lootato Come se prendiamo Delle pelle Con 5 kill Vediamo se escono Se non escono Ci sono notifiche Già siamo a 17 Oh Cazzo C'è qualcuno Quanti che cecchina Ah li vedo anche Questo è arrivando L'intero tempo Infatti Sì Sono scesi Stanno bruciando Stanno andando a potenziarsi Con le pietre Si sono potenziati Con le pietre Sono separati Abbastanza Io sto arrivando Dal piume Ah C'è lontanissimo Allora Ti vado in contro Poi in una pietra Ti vado in contro Perchè C'è Ci sono andati C'è E' andato insieme Quando si sono separati Molto ma Molto Allora A 330 Nello Spostato l'albero Ok Devono essere Di dove Vai Domani eeeh aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mi prendo una pozza io mettendo che pieno hack shot eeeh eeeh cazzo mi sono sparando a tutte le parti sconditi guarda che ti sparano tutti oh ma te lo scondiamo in zero si si lo scondiamo in terra c'è un bar di gente siamo in mezzo scappiamo in una casa non si sono in mezzo sono in mezzo sono in mezzo non morire non morire ma ragazzi non mi avrai se ti metterò tra io 4 ok c'è tantissimo che diciamo che sono in mezzo se ne sono scappato questo è guante è caduto ammazzato finito io devo coprire un altro c'è uno vicino a me ti hai ammazzato tu uno si c'è ancora qualcuno vicino si c'è un altro team sono malati col trambolino siamo fuori safe un attaccato un attaccato vabbè da lì non lo salvano più un attaccato un attaccato un attaccato un attaccato ah vero mi dai un medico facciamo un attaccato non ho neanche più materiale non posso più fare niente oh ma questa sta venendo di qua ho un altro da dietro doveva andare in besta guarda 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 sei uscito è venuto occhi occhi che ti sparo eh i materiali aspetta ok li ho trovati c'è da dietro la team besta o uno mi ha ucciso cazzo siamo 3 contro 2 penso merda adesso ti do i cazzi vediamo se ne ho se ne ho c'è un botto di lui cazzo molla il medico cazzo ok io ho gli scudini io ho solo uno cazzo dove hai il medico no ne ho solo uno e me lo sono fatto ah tieni gli scudini razzi razzi No, non ero, è tutto adottato Sì, erano top tutte le cose Non ho tanto materiale io, eh Adesso raccogliamo Se vuoi un tattico Ho trovato i gazzi, quattro Quindi gazzi, uno è davanti a noi proprio Sono tutti davanti a noi E' uno intanto col caccio, ok? Guarda che se sali, ti ho una cazza a tutti quanti Io ho uno lo cecchino, secondo me, tra poco Io non ho materiale Vieni da me, vieni da me Vabbè, push allora Andiamo, andiamo, andiamo 2v2, dai Uno solo 25, scudata Bella E vincono Minchia Salvatela clip, capita che Che si cercano a scusa Hai, l'ho la notte, un mino tu Ciao, l'ho la notte Non è raffredda Oh, l'ho la notte L'ho la notte L'ho la notte Autore dei sorrisi